Buonasera e buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio ed è sempre la pioggia protagonista su strade e autostrade oggi in Toscana. Sulla 1 personale su strada tra Incisa Reggello e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Lavori anche sulla Firenze Pisa Livorno tra l'interporto Toscano Est e quello Ovest in direzione Livorno. Sulla 11 rallentamenti per un veicolo fermo tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze. Ricordo che sulla 1 direttissima per consentire lavori di manutenzione dalle 21 di lunedì alle 6 di martedì 23 aprile sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 panoramica, località La Quercia e località Aglio in direzione di Firenze. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi. Grazie a tutti.